Stefani Bellarte e Alessio Guidi stanno ancora insieme o si sono lasciati? La verità all'interno del nostro articolo. Sofia Bellarte e Alessio Guidi stanno ancora insieme o si sono lasciati? Nelle ultime ore è esploso un gossip che vedrebbe la ragazza tradire il suo fidanzato con il cantante Ricky, ma la verità è un'altra. Leggi anche, Ricky, il cantante bacia una ex concorrente della Pupa e il secchione, ma lei è fidanzata, ecco chi è la ragazza, foto, il bacio con Ricky nelle ultime ore in molti hanno sostenuto che Stefani Bellarte abbia tradito Alessio Guidi con il cantante Ricky, ma è vero? Ecco cosa si legge su Utsè e, Stefani Bellarte e Alessio Guidi si sono lasciati? Ci dispiace dover dare questa brutta notizia ai fan della coppia, ma sì, Alessio Guidi e Stefani Bellarte si sono lasciati definitivamente. A dare la notizia ci ha pensato proprio la diretta interessata dopo aver saputo che circolano in rete alcune sue foto con il cantante Ricky. Tramite le sue Instagram Stories, Stefani ha detto, di seguito il video, https2.com. www.it.wpcontent, uploads, 2022, 07, Stefani Bellarte e Alessio Guidi lasciati. MP4 per il momento Alessio non ha detto una parola sulla sua rottura con Stefani. Lo farà, lo sapremo nelle prossime ore, nel frattempo sul profilo Instagram del ragazzo compaiono ancora foto insieme alla sua ex dolce metà. I fan della coppia sono rimasti davvero delusi apprendendo che il loro amore sia ormai giunto al termine. Ma cosa è successo fra loro? Per adesso tutto tace, ma ne sapremo certamente di più in futuro. Seguici su Instagram cliccando qui.